Buonasera e benvenuti al Tg. Alla città di Parenzo sono stati approvati i mezzi a fondo perduto pari a un milione di cune per la ristrutturazione dell'edificio della scuola dell'infanzia Gorni Vertici. Vediamo il servizio. La città di Parenzo si è candidata al concorso pubblico per il cofinanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici con la caratteristica di bene culturale, dal fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica. Candidandosi al concorso per il finanziamento della preparazione della documentazione pubblicato nel 2018 dall'Agenzia regionale istriana per l'energia, la città di Parenzo ha realizzato il diritto al finanziamento del 100%. La città ha completato la preparazione della documentazione e l'elaborato di sovrintendenza. Su questo stabilimento abbiamo in piano di fare tutto il sottotetto, di cambiare tutto l'impianto elettrico, anche le lampadine, di cambiare tutti i vetri, tutte le finestre e le porte. E praticamente con questi lavori aumenteremo l'efficienza energetica dello stabilimento. Il progetto dunque comprende i lavori di bonifica energetica strutturale della sottostruttura del tetto, l'isolamento termico del soffitto inclinato e del pavimento verso la manzarda non riscaldata, lavori di copertura e riparazione del tetto, lavori di sostituzione della falegnameria completa, lavori di riparazione completa dell'impianto di installazione elettrica e sostituzione delle lampade di illuminazione. Nonché il servizio di supervisione tecnica dell'esecuzione dei lavori. Poiché per motivi restrittivi di conservazione riguardanti gli immobili energetici, la ristrutturazione della facciata non era un costo accettabile nell'ambito di questa gara d'apalto, la città per questa parte dei lavori richiederà ulteriori fonti di cofinanziamento. Parenzo è la prima città ad adottare un approccio serio nell'esaminare i problemi di ristrutturazione degli edifici che rientrano nei beni culturali. Si tratta di un progetto costoso e complesso, di lunga durata perché tali progetti devono ottenere il consenso dei conservatori. Il consenso della sovrintendenza è stato ottenuto, la documentazione tecnico-progettuale era pronta, in quanto questa era una delle condizioni per potersi candidare al concorso, ha sottolinato la direttrice Lalic. Pia Casa di Ricovero, o come la chiamiamo noi oggi Gorni Vertic, è sicuramente uno degli asili preferiti tra le generazioni di bambini e genitori. Quindi la ristrutturazione significherebbe molto non solo per l'asilo e i suoi bambini, ma anche per l'intera città, per la sua posizione nel centro città e per il suo significato culturale e storico, ha dichiarato il sindaco di Parenzo, Loris Persuric. La città, ha sottolineato il sindaco, continuerà a candidarsi a gare d'appalto e inviti pubblici, al fine di alleviare il bilancio della città e realizzare tanti progetti. La scuola dell'infanzia Gorni Vertic, conosciuta come Casa Pia, ha una lunga storia. Fu la prima casa di ricovero in Istria, inaugurata nel lontano 1910. L'edificio fu costruito come investimento capitale del comune di Parenzo, per il quale anche la famiglia nobile dei Polesini partecipò con fondi importanti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'edificio fu convertito in casa dello studente ed infine negli anni 70 diventa scuola dell'infanzia. La struttura oggi conta 18 dipendenti e fornisce il servizio di scuola dell'infanzia e asilo nido per 110 bambini, per 5 gruppi di scuola dell'infanzia e un gruppo di asilo nido. Nel prossimo servizio vi facciamo conoscere Roland Bugner, una persona disabile al 100%, a cui Mater Imatz ha cambiato la vita, regalandogli otto anni fa una batteria che gli ha dato la libertà e gli ha permesso di fare più di 2500 chilometri. Roland Bugner è un 31enne che vive con la sua famiglia a Veprinatz. Il suo corpo soffre di distrofia muscolare spinale sin dall'infanzia. Roland e i suoi genitori hanno scoperto della malattia quando lui da piccolo avrebbe dovuto fare i suoi primi passi, ma questo non è mai successo. I muscoli diventano sempre più deboli e le conseguenze sono gravi. La sfida più grande è la stabilità mentale e l'accettazione dei cambiamenti che si verificano, ci racconta Roland. La più progressiva è la distrofia muscolare e respiratoria, che è anche la più grave. Attualmente 5 persone a fiume hanno questo tipo di distrofia e purtroppo molto probabilmente non vivranno oltre i 30 anni. La giornata della consapevolezza di questa malattia a fiume si manifesta con i monumenti e fontane in centro città, illuminati di rosso. L'Associazione per i malati di distrofia muscolare della regione litoraneo montana conta 86 membri colpiti dalla malattia, che hanno dai 5 agli 87 anni. La soddisfazione più grande è il nuovo farmaco che influenza la progressione della malattia. Il farmaco si dimostra più efficace nei neodiagnosticati, cioè nei giovani e nei bambini. Il farmaco è in circolazione da poco, quindi non possiamo dire dei risultati per certo, ma pare che aiuti individualmente chi lo usa. Sicuramente si può vedere un cambiamento, ci racconta Roland. L'Associazione fornisce supporto ai membri. Attraverso progetti del Mistero e del Fondo Sociale Europeo e con il sostegno della città di fiume e della regione, vengono finanziati assistenti e supporti didattici e recentemente la tanto necessaria fisioterapia. Sentiamo qualche parola della fisioterapista Antonia. Questi non sono solo pazienti, sono membri. Qui ci conosciamo tutti e siccome sono sempre le stesse persone, siamo più legati che in ospedale. E questo mi fa felice, dice Antonia. Sono una persona creativa e ho già mille idee che in accordo con i soci trasformerò in terapie. L'obiettivo principale è motivare i membri, quelli che possono farlo, a lasciare le loro case, stabilire contatti sociali e a ricevere la terapia necessaria. Abbiamo procurato l'attrezzatura necessaria e abbiamo anche installato una gru, che per ora ha i binari solo nei bagni, ma abbiamo in piano di installarli anche nelle altre stanze, per permettere ai membri di spostarsi all'interno della struttura, ci spiega ancora Antonia. Ricordiamo che il nostro Roli è diventato famoso a livello nazionale quando Mate Rimac ha realizzato per lui una batteria per la sedia a rotelle elettrica. In questo periodo ho fatto 2500 km nella mia zona e il terreno qui è ripido, la batteria normale sarebbe durata sei mesi, ma questa dura ormai da otto anni, ci dice Roland. Vale a dire che con la batteria originale e con una carica, Roli può fare circa 10 km, e con questa invece arriva a fare anche fino a 80 km, questo per sottolineare l'importanza che questo dono ha avuto per lui. Roland è ancora in contatto con Mate Rimac. Posso dire che anche Mate è rimasto sorpreso, siamo contenti di sentirci. Per il futuro è difficile fare delle previsioni, conclude Roland. Roli spera di continuare la collaborazione, le idee ci sono e l'immaginazione non è proibita, e se tutto potesse realizzarsi attraverso un progetto, potrebbe giungere a buon fine, di modo che i ragazzi simili a Roli possano correre come fulmini con le loro carrozzine. Notizie Flash. A Parenzo e nel comune di Visignano inizia la distribuzione dei contenitori individuali per la raccolta differenziata. Verranno distribuiti quasi 30.000 contenitori per la carta e il cartone, gli imbalaggi in plastica e vetro che consentiranno a tutti gli utenti di dividere i rifiuti sulla soglia di casa. Il 23 settembre presso la Casa Tartini a Pirano sarà organizzata la promozione dell'iniziativa App Lumi nell'ambito del progetto L'Età dei Lumi, Giuseppe Tartini, Giancarlo Rinaldi e la cultura del Settecento. Il progetto è ideato e coordinato dal centro italiano Carlo Combi di Capodistria in collaborazione con le istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e altri partner. A Fiume il mese di settembre ci porta tanti eventi e manifestazioni, tra cui la 14esima edizione della Fiera del Libro e del Festival della Letteratura VRISAC. Nel servizio che segue sentiamo come si svolgerà l'evento e chi è stato premiato quest'anno. L'apertura ufficiale della Fiera Letteraria VRISAC si è tenuta la sera del 12 settembre nel cortile del Palazzo del Governo e in quell'occasione è stato assegnato il premio del valore di 100.000 cune per il miglior romanzo inedito di quest'anno. C'erano più di 142 manoscritti di generi diversi in concorso, spiega la Pogacnik, dicendo che è stato estremamente difficile scegliere il migliore, ma la giuria alla fine ha premiato la raffinatezza stilistica e l'approccio unico al pensiero prosaico. Il romanzo dal titolo Figlio, andiamo a casa, dell'autore fiumano Ivica Portenaccia affronta la perdita, la speranza a breve termine e la memoria. La voce nel romanzo è allo stesso tempo fanciullesca, ma anche la voce matura di un uomo che prende decisioni difficili. I tre personaggi nel romanzo non hanno nomi, solo i loro ruoli familiari che trascendono il destino. Il primo premio ha portato all'autore la pubblicazione del manoscritto, un premio di 100.000 cune e anche la traduzione del libro in lingue straniere. Questo è il secondo premio per Portenaccia, che nel 2014 ha vinto il primo premio per il romanzo Berdo. Il RISAC di quest'anno avrà un ricco programma, con più di 40 eventi in otto giorni, ci spiega Drago Glamusina. Avremo 60 scrittori ospiti e spero proprio che ci divertiremo con la letteratura. Il tema di quest'anno è un fiume di poesia. Reputiamo che in un momento storico del genere, di estrema insicurezza, la poesia sia un modo per ritornare alle origini ed esprimere le nostre emozioni più profonde in maniera autentica, spiega ancora Drago Glamusina. Negli autobus dell'autotroll in centro città, i passeggeri potranno leggere la poesia dai manifesti. La parte centrale del programma si terrà negli spazi dell'ex port de rua. Abbiamo investito molto in questo festival e continueremo a farlo in futuro. Il sindaco di Fiume conclude dicendo che con orgoglio e soddisfazione il RISAC si organizza a Fiume da ben 14 anni. I colori del tempo è la prima mostra individuale dell'artista polesana Manuela Peressa, solennemente aperta nel centro culturale serbo di Pola. La mostra è una selezione dei suoi recenti dipinti realizzati in tecnica dell'acrilo su tela. Si tratta di dipinti di medio e piccolo formato, di espressione e temi astratti con cui l'autrice esprime il suo mondo interiore, che è indicato dai nomi dei dipinti tra il mare e il cielo, acqua profonda come te, silenzio infinito e sotto la superficie. Sono contentissima che ho finalmente realizzato il mio sogno, perché era un desiderio che avevo già da tanto tempo. Come ho detto, la mostra è la mia prima personale ed è composta dai lavori che ho fatto negli ultimi due anni. Siccome la mostra era in piano l'altro anno, per via del Covid è stato tutto rimandato per quest'anno, così che ho avuto anche il tempo di arricchirla con altri lavori e adesso le presento tutti quanti qua. Insieme alla mostra è stato pubblicato un catalogo commemorativo preparato dalla storica d'arte Tina Shiretz-Jodan, in cui tra l'altro afferma che l'autrice non solo svela il mondo del suo immaginario personale con i suoi paesaggi astratti in cui l'esperienza di ambiente fisico e metafisico è intracciato parte di se stessa e quel momento di sincerità dell'autrice nei confronti del suo lavoro è facile da riconoscere senza troppe spiegazioni. Questi sono alcuni paesaggi che ci associano ad alcuni sorci di mare i colori che usa sono estremamente chiari linee molto chiare e decise con posizioni equilibrate colori di base predominanti per lo più blu e rosso con piccoli accenti di bianco e nero Per un'autrice la quale questa è la sua prima mostra individuale è davvero un'opera meravigliosa che inizia un nuovo viaggio in una serie di nuove mostre individuali e le auguro buona fortuna Nelle sue opere, aggiunge Shiretz-Jodan si può riconoscere la traccia di un lontano esempio del grande maestro Edo Murtic Concludiamo la stagione estiva con la mostra I colori del tempo di Manuela Peressa Lei è una grande artista con un'energia e un entusiasmo eccezionali è una pittrice amatoriale ma ha un'eccezionale sensibilità per l'arte e questo è esattamente ciò che dimostra questa grande mostra Manuela è un'educatrice laureata è un designer di interieri e realizza anche gioielli unici e dipinge da quando era bimba dove trova l'ispirazione per le sue opere Manuela spiega L'amore per la pittura è sempre stato presente in me da quando ero piccola è continuato durante la vita ho sempre dipinto però ecco adesso ho preso un po' di coraggio e ho deciso di fare la mia prima mostra personale e devo dire che sono molto soddisfatta Ed è tutto, grazie per averci seguito buon fine settimana